E' un'altra parte. La rincorsa di Marotta. Fischia l'arbitro. Parte Marotta! Spiazzato Bertozzi. 1-0 del Vicenza dopo nemmeno un quarto d'ora. Già al vantaggio del Vicenza con Marotta. 1-0. La rincorsa di Marotta. La rincorsa di Marotta. Simone Della Ratta al 92esimo. Il vantaggio del Piacenza che rimonta anche questa e probabilmente vince col primo gol di campionato di Simone Della Ratta. 2-1.